C'è stato proprio un momento esatto, un giorno esatto, che era una giornata di fino agosto del 2013. Vivevo in via Fondazza da circa un paio di anni e mi ero sposato da poco, avevo un bimbo piccolo che aveva qualche mese e vivendo in via Fondazza non conoscevo molto i miei vicini di casa. L'esigenza è stata di trovare altre famiglie che abitassero nella strada con cui far giocare mio figlio, però si poneva il problema di come entrare in contatto con le altre famiglie. Questo per me non era così facile perché lavoravo moltissimo all'epoca, uscivo la mattina presto, tornavo la sera tardi, quindi non vivevo la strada, non sapevo neanche chi abitasse nel mio palazzo onestamente. Allora mi sono chiesto come posso risolvere questo problema, come posso entrare in contatto con i miei vicini di casa e parlando con mia moglie a tavola ho detto beh perché non creiamo un gruppo Facebook, lo chiamiamo Residenti via Fondazza e creiamo un punto di aggregazione per condividere necessità, per socializzare e così fu. Stampammo una cinquantina di locandine, le mettevamo sotto le pori, i portoni, nelle buche delle lettere, all'epoca c'erano ancora i bidoni del rusco quindi venivano messi attaccati lì e incredibilmente dopo meno di una settimana c'erano già 50-60 persone. Fu carino anche cominciare a riconoscersi, a sapere quelle persone che tu incrociavi tutti i giorni per strada, aveva un nome e quindi la volta dopo la potevi salutare e tutto questo innescò poi quello che è diventato un fenomeno mondiale. Social Street non si ispira a nessun modello, è nata per una mia personale necessità che poi ho scoperto essere una necessità di tanti, cioè sentirsi a casa non solo nelle quattro mura domestiche ma a casa già nel momento in cui entri nella tua strada, quando le persone ti salutano. Le città come sono costruite oggi o come sono state costruite in passato non favoriscono la socialità perché ora va bene, via fondazza come dici tu è abbastanza raccolta però per esempio la panchina che tu vedi nella piazzetta non c'era prima, quella è stata un'iniziativa promossa da Luigi ed altre persone del gruppo che si sono adoperate col comune per richiederla perché in effetti se tu vedi via fondazza, sì ti puoi fermare a parlare in strada però non è facile creare momenti di aggregazione e anche nel momento in cui tu volessi fare, volessi organizzare anche una festa in strada o mettere dei tavolini e così c'è una serie di problemi burocratici quindi non è per niente facile creare i momenti di aggregazione nella strada. Infatti Social Street voleva, proprio per bypassare anche questi problemi si prefigge l'obiettivo di creare intanto delle relazioni online che poi si trasformano in offline in vari modi perché molti pensano Social Street uguale festa di strada, party eccetera eccetera no in realtà quello può essere il punto di arrivo ma ci può stare o non ci può stare proprio perché le città non aiutano in questo senso, la burocrazia non aiuta in questo senso quindi si pongono già delle problematiche ma Social Street parte dal piccolo da creare la relazione 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 piccoli gruppi La cosa che più mi ha colpito è come le Social Street siano state utili durante la pandemia a creare un supporto virtuale fra vicini di casa perché è vero che non ci si poteva incontrare è vero che non ci si poteva scambiare le cose però è stato interessante vedere come comunque c'era questo desiderio di socialità In realtà i giovani sono meno coinvolti, l'età media diciamo è dai 30 anni in su, 30-50 è la fascia Via Fondazza ci sono tantissimi giovani che si iscrivono alle Social Street questo lo sappiamo perché chiediamo quando entri in un gruppo chiediamo dove abiti e se conosci l'idea della Social Street e vediamo che sono soprattutto giovani che si trasferiscono a Bologna per studiare, diciamo nel piccolo ma i giovani non ricoprono un ruolo attivo nella vita della Social Street Come modello organizzativo abbiamo deciso di lasciare assolutamente autonomia a tutte le Social Street quindi non c'è un coordinamento, è vero che c'è il sito che serve semplicemente a mapparle ma proprio perché non esiste una struttura, non c'è un coordinatore, io sì sono stato l'ideatore mi chiamo proprio ideatore perché ho dato l'idea poi ognuno è come quando getti un seme, lo getti, idea è un po' d'acqua però dopo può crescere, non può crescere e così sono andate le Social Street quindi in realtà sì ci sentiamo magari anche con Social Street di Milano per confrontarsi su certe cose ma in realtà ogni Social Street ha una vita propria, ha le proprie iniziative Grazie a tutti